I tre e un quarto! A fare! Sì, sì. E allora, compagno, no, niente. No, sono in ufficio, perché però stiamo facendo dei colloqui per assumere del personale in amministrazione, sì, sì. Senti, ascolti, mi hanno raccontato una verso elettina, ieri sera troppo carina, te la racconto. Allora, praticamente c'è una zebra che scappa da un circo che si trovava nell'entroterra siciliana, no? Mentre Girovaga, per le campagne siciliane, si imbatte in una fattoria tipica nostra, no? E quindi vede degli animali che non aveva mai visto, perché era abituato a tutti gli animali del circo, erano animali esotici. Si avvicina al pollaio e si guarda con una gallina, la gallina alla guarda, si tagliano tutto lui, e poi dice, ma tu chi sei? Io sono la zebra. E tu chi sei? Io sono l'addina. Addina? Cos'è un'addina? Un'addina, una gallina, non so che sono le galline. Noi siamo gli animali importantissimi, facciamo le uova, gli uomini con le uova ci fanno un sacco di cose. E poi ci macellano, diventiamo polli, siamo importantissimi per l'alimentazione degli umani. Ah, dice, non lo sapevo. Ciao, ti saluto, va più avanti. E c'era un altro recinto. E tu chi sei? Io sono la mucca. E tu chi sei? Io sono la zebra. La zebra? Sì. E la mucca a che cosa serve? A chi serve la mucca? Ma che tena. La mucca serve per tante cose. Noi facciamo il latte. Dal latte gli uomini fanno un sacco di cose. Poi ci macellano e diventiamo importantissimi perché siamo uno dei piatti principali per l'alimentazione umana. Ah, ma io non lo sapevo. Ti saluto, va più avanti e vede un animale enorme. A un certo punto si è tagliato tutte le uova. E fa, io sono la zebra. E tu chi sei? Chi sono io? Io sono il toro da monta. Il toro da monta? E a che serve il toro da monta? A me la fate stupiggiamo in un catoazzo a vedere. Grazie a tutti, a me. E grazie a tutti. Va bene, va bene. Ti saluto che dobbiamo iniziare. Ciao, ti abbraccio. Ciao, ci sentiamo più tardi. Ciao. Avanti il prossimo, grazie. Io, 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 io. Prego, si accorga. Venga, venga, venga. Sono qui per essere assunto. Sì, adesso vedete. Prima dobbiamo fare un colloquio preliminare. Come preliminare? Manco tempo da cominciare e già mi avete a eliminare. No, no, eliminare. Preliminare. Pre, prima fai il colloquio e poi, se è il caso, ne fai un altro e viene assunto. E mi date lo stipendio. È ovvio, sono... No, io ci tengo. Per me è più importante del lavoro lo stipendio. Ma che stai, cioè, è ovvio. No, ci tenevo a precisare. Possiamo iniziare così ci dobbiamo. Sì, comunque io sono preparato su tutto. Vabbè, non c'è bisogno, questo, io l'ho detto, non c'è bisogno di essere preparati. Ok. Le farò delle enormissime domande perché questa è la frase. Sì, però se l'appunti qua, il test è preparato su tutto. Il test? Sì. Di chi siamo in tribunale, non lo capisco. Ah, no, no, il paziente, il paziente è preparato. Non sono un medico, non sono un medico. Allora, stiamo facendo un colloquio di lavoro, semplicito. Si rilassi, per favore. Iniziamo. E allora, nome e cognome. Lo so, lo so. Vai, chi c'ha prima? Vai, lo so. Dammi cinque. Ma che le do, c'è un tapaggio, Giorgio? Ma che cosa sa a lei? Il nome e cognome. Ma è normale che lei conosca il suo nome e cognome. Perché lei lo conosce? No. È un uri che ignorante. Non sape niente, io lo so, lo so tutto, sia il nome che il cognome. Ma se io a lei non l'ho mai vista, mi scusi. Lo so, lo so. Vabbè, senta, andiamo avanti. Come si chiama il suo nome? Ignazio. Allora, Ignazio. No, no, Ignazio. No, Ignazio. No, Ignazio. Ignazio con la I. Ignazio con la Gni. Con la Gni. Come ignorante. No, come imbecille. Va bene? Ignazio con la I come imbecille. Vabbè, come dice lei? Ignazio. Di cognome? Campanella. Campanella. Un nemet suono. Bellina. Come sta andando? No, benissimo, lei è simpaticissima. Allora si può avere una promozione. Quale promozione? Non l'ho assoluta ancora. Ma però stiamo andando bene. Sia tranquillo, si rilassa. Nato il... Il, l'olà, il, il, l'articolo del medio maschile prima persona singolare. Vai per la grammatica. E chi c'è fatta? La grammatica, eh? Ma quella grammatica? Nato il, nel senso, la data. Ah, sì. Sì, cosa? L'ho data. L'ho data? Sì, ma tanto tempo fa cominciavo... Ma di che sta parlando? Alle scuole proprio. Alle scuole? Sì. Chi ha dato? Chi è? Ma di che fa? La data, il giorno! Di giorno? L'ho data di giorno perché era a scuola, però poi finivo che era notte tardi. Ma che... La data di nascita, il giorno in cui lei è nato! 15, 5 e 64. 15, 5 e 64. Allora. Come sta andando? Benissimo, guarda. Sesso, vabbè, sesso M. Sè M, XL. M. XL. Sesso M. Si lascia dire XL. M, maschio, F, femmina. Ah, allora, SM. SM. Super maschio. Ma chi ci fa? Vabbè, SM. Vabbè, ci metto purezza e la faccio conti. Grazie, XXL era meglio. No! Lei è celibe? No. Lei non è celibe. Allora è sposato? Con mia moglie. Sì. A presto essere mi ha dato come moglie, non l'ho capito. Sì, com'è sua moglie? Ah, guardi, non per cosa, ma io ho una moglie stupenda. Un metro e settantacinque. Mi. Bionda. Mi. Occhi azzurri. Mi. Due seni. Capare un ruboluna. Mi. Dei fianchi perfetti. Mi. Un fondo schiena che è una poesia. Mi. Due cosce lunghe. Una coviglia affusolata. Una meraviglia. Mi. E sua moglie? Mi che è l'aria. Guardiamo la sua. Ma che mi fa dire? Lei è sposato con prole? No, con Rosalía. Con Rosalía. Si chiama Rosalía? Qua è prole? No, Rosalía. Con prole vuol dire con figli. Allora, un prole o una prola? Un prole o una prola? Sì, lui no. Sbagliavo. No, 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 va bene, va bene. Lei che attitudine ha? Un metro e ottantuno. Su me la vi peri un metro e ottant tre. Ogni tanto pazzo, però. Senta. Sì. Io non ho detto che altezza, attitudine. Attitudine. Lei ha capito, altitudine, che non c'entra niente. No. Attitudine. In che cosa è capace? Cosa sa fare? So che ghiè. So che ghiè. So che ghiè. Campanello, non mi metto suono. È ovvio. Allora, siccome stiamo cercando degli amministrativi, per esempio, io, 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 io. In ragioneria, ok? No, io a ragionare sono troppo bravo. Perfetto. Quindi deve essere bravo nei calcoli. Mì, calcoli. A scuola ero il primo della classe. Ah, ecco. Questo è un punto a suo favore. Quindi lei è specializzato nei calcoli. Mì, gioco bravo. Allora, mi ha incuriosito. Mi diamo subito una dimostrazione di calcoli. Che c'è ne fazzuno di calcoli a cagarmelo. No. No, 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 che schifo. No, no, no. Mi sto facendo vomitare. Basta. No. Bonì. Io ho detto i calcoli, noi i calcoli. Ah, renali. Ce ne ho due. Matematici. Calcoli, matematici. In matematica è bravo. La mia materia preferita, Raspo. Lei è il primo della classe. Quindi lei è bravo in matematica. Oh, e ci voleva molto. Mi scusi. La matematica è il mio forte. Ok, va bene. Allora, se lei è veramente bravo, come dice di essere, potrebbe avere una buona chance di essere assunto nella nostra azienda come ragione. Eh, per me va a vedere quanto stipendio. Guardi, non per cosa. Ma noi abbiamo stipendi sopra la media. Guardi, se lei è veramente così bravo, potrebbe guadagnare sin dall'inizio anche 500 euro a settimana. Ma in 500 a settimana? Eh, eh. E quanto viene ho messo? Come? Dice che è bravo. 500 per 4. Sì, ma sono troppo assai. Mamma mia. Lasciamo aperto. Andiamo avanti, andiamo avanti. Posso avere due ore di permesso? Quale due? Non l'ho assunta. C'è buona, che andare? Allora, una domanda un po' più personale. Lei ha qualche hobby? Sì. Che hobby ha? Ho bisogno di lavorare. Ho bisogno di lavorare. Ah, sei messo con un travaglio, mia moglie mi fa fuori casa. Hobby, hobby. Ah, l'assorbente. L'assorbente. Che è l'assorbente? Ma chi ci fa con l'hobby lei? No, hobby, passatempo in inglese. Per un passatempo chiaro, non sono figlio. Ma che dici? Ma lei, andiamo avanti, che invece i discorsi non mi piacciono. E' una parola inglese. Sì. Lei ha la lingua come con Milano. Ah, troppo bello. La lingua, troppo bello. Quindi lei è esperto in lingua? Ma chi fa babbia? Mia nonna mi faceva appiccicare i francobolli, 50 in un minuto. Ma che ha capito? La lingua sa... Non ha capito niente. Io volevo sapere se lei conosce qualche lingua. Sì, tra meno 5-6. Sì, 5-6. No, giusto, 7. 7, 7. 8. 8. 9. 9. Ci mettiamo un resce. Non lo so, arrotondiamo a 15, rimane più contento. E chi sa a privare? Ci mettesse 15. Anche perché se ci metto pure quando andavo a scuola, pure a binta arrivamo, eh. Cioè, non lo capito? Lei non sta scherzando? Non c'è. Cioè, lei mi sta facendo capire che conosce delle lingue sia a livello scolastico che a livello professionale. Sì, perché ho cominciato a scuola, ora sono un professionista. Ah, ma questa è una cosa a suo favore. Ah. Bene, perfetto. Allora, mi dici quali lingue conosci? Allora, chi di Rosalia conosce troppo bella perché è mia mogliere. Prima ci fu Cetta, Concetta e Maricetta. Oh, 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 oh. Lei è un porco, è un malizioso. E noi un po' ti famo. Io intendevo lingue straniere. Lei conosce lingue straniere? Certo, le conosco. Certo. Lingue straniere. Pure. Michelle, Veronica e Samantha, poi c'era pure Deborah Cullacca. Ma che c'è? Però chi c'era strana Deborah Cullacca? Perché chi? Perché aveva tutti capito e spettinate. E quindi? C'è che te le va a laccare un nome e ti ha sposti in te. No, perché c'è? E ti ha sposti in te. Come sta andando? Bellissimo, guardi, lei è meravigliosa. La promozione è mia. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Economia. Eh? Economia. Ah, vabbè, se è sua... Per esempio, se io le dico PIL, lei cosa mi risponde? Oh, PIL e PIL. Ora il PIL non capisco più niente. Di che senso? Incoglionisco. A me piace... A lei piace pure o PIL. A lei piace il PIL? Mi piace troppo bello, PIL. C'è PIL e PIL, però, giusto? Non è che è tutto PIL che... Ma di che sta parlando? Io per PIL intendo prodotto interno lordo. Schifio, interno lordo. No, 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 su PIL non mi piace. No, 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 st'en lordo no. Ma di che sta parlando? O PIL? Mamma mia, lei è un deficiente. Vero? E io che lo vado a presa? Non lo faccio più. È automaticallyo? No, io sono... Lapa munito. Lapa munito. Lapa munito. Che cos'è lei? Lapa munito, Fhero. Lapa munito? Lapa munito. E che vuol dire Lapa munito? Io ho la Lapa. Chi è la Lapa? Un lapino, l'apetto. La belle cacuaccio la via! Cioè lei mi sta parlando del furgoncino con l'altra ruota della Piaggio. Lapa e Piaggio. Come lo chiama lei? Alapa. Alapa, un lapino. Un lapino, ho capito. No, non si dice Lapa munito. Perché? Si dice auto munito perché uno c'è l'auto. C'è lei all'auto? Auto munito. Lapa munito. Auto munito. Lapa munito. Giusto, non ci aveva pensato. E allora, secondo lei, uno che ha gli sci, com'è? Sci munito. Com'è? Preciso. Mi serve. Mi ha fregato. Complimento. Comunque ha portato con sé il suo curriculum? Il curriculum me l'ha portato? Curriculum. Curriculum. Io mi ho portato sempre da peso. Fa bene. Fa bene. Mai lasciarlo, potrebbe servire. Qualcosa. Appena la stringirò. Perché vede, proprio attraverso il suo curriculum, io riesco a conoscerla meglio. Curriculum. A vedere che esperienze ha avuto in passato. No, io non ho mai. E a quel punto potrei anche inserire qualcosa di mio. Ma come è sci munito? Lei non inserisce niente. No, io inserisco. Lei non inserisce niente. Questa è stata a senso unico. Se ne esce monso trase. Amore. Senta, mi faccia vedere il curriculum. E lei mi assume? Ma dipende. C'è piacere prima. Se è il caso. Se è un buon curriculum, certo. Perché no? 500 per 4, giusto? 500 per 4. Sì, stipendio. 2.000 euro. Si può fare. Vabbè, io ci faccio la birra. Però dice la mamma Rocca, si guarda, ma non si tocca. Che cosa? Un curriculum. Il curriculum? Devo toccarlo. Se ne faccio sto cuocco. Cosa? Cosa? Ma è paziente? Attimo! Che feo! Tutto studato! Non è studato, ci dice obbedeum. Obbedeum! No! Ho capito! Il curriculum ci fa obbedeum. Il curriculum obbedeum. Che? Lei ha avuto esperienze lavorative precedentemente? Sì, te l'ho aiutato mio padre per 10 anni. Eh, e stupate cosa faceva? Disoccupato. Ho capito. E chi è? Ma che è il curriculum obbedeum? Vabbè! Lei è fortunato. Perché? Ho deciso di assumerla. Veramente? Lei l'uomo che fa per noi. Io? Proprio, guardi, non avrei potuto immaginare di meglio. Lei è un intenditore. Brava, brava. E lo sa perché la voglio assumere? Eh, per darmi la promozione. Perché mi devo togliere subito una grandissima soddisfazione! Sì! Quella di poterle dire, caro amico mio, che lei è... Assunto! No! Licenziata! Fuori! Facciata! 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 Licenziato! Accuso preso! Sì! E la buona uscita... Se ne vada! Sua visca! E non ci metta più piede! Vada via! Vada via! Tre e un quarto! Quattro! Tutto!